Nel processo morsa sugli appalti l'udienza della 35enne collaboratore Titta Femia che ha riferito su domande del PM Antonio De Bernardo che i principali esponenti delle tre zone sarebbero Giorsino per il centro, Giuseppe Lupoi per Prezzarello, De Masi e Caracciolo per Giardini. Femia si è poi concentrato sulla figura di Caracciolo descritto come una persona anziana con i baffi che sarebbe stato il capolocale di Giardini ed era nella copiata del Femia anche se non si è detto certo della presenza di quella persona al conferimento dello sgarro. Tra le vicende raccontate da Femia quanto accadde tanti anni addietro quando nel periodo della festa di San Rocco gioiosa Femia e altre persone stavano facendo una colletta in favore di un giovane che aveva subito un grave incidente stradale. Quella richiesta sarebbe stata interpretata male da alcuni soggetti che avrebbero frainteso la richiesta come una mazzetta fino a quando l'equivoco si è chiarito con l'interessamento dei vari Ursino, De Masi e Caracciolo indicate dal collaboratore quali persone che mantengono l'ordine. Il processo ha infine registrato una serie di acquisizioni di trascrizioni provenienti da altri procedimenti penali, il deposito di documenti alla fascicolo del PM. Quindi il Tribunale ha rinviato al 15 dicembre per un conferimento di un incarico peritale.